Ciao a tutti, allora, un nuovo video e questo sarà un video diciamo non in programma perché mi è arrivato un pacchetto sorpresa, è il primo pacchetto sorpresa che mi arriva, infatti sono un po' emozionata ed è da parte di una ragazza che si chiama Giulia che ho conosciuto da poco su facebook che sento spesso ultimamente, ecco stiamo iniziando a conoscerci e appunto ho voluto farmi questo regalo, è stata veramente dolcissima, oggi mi è arrivato il pacchettino e niente ve lo volevo mostrare, allora questo qui è il pacchettino, non lo giro dall'altra parte perché ci sono gli indirizzi e io l'ho già aperto in modo che si faccia una cosa abbastanza veloce e andiamo a vedere che cosa c'è dentro, allora dentro c'è questo pacchettino, che carino, con questa carta da regalo bellissima, con le macchine, gli animaletti, di tartaruno, che carino, che carino, bellissima, ok, poi qui invece c'è, ah il bigliettino, ok, questo qua, me lo leggo io poi dopo, e poi ci sono tutti questi stickers con le ciliegine, la fragolina, qui c'è un'altra fragolina, questa qui 3D, no, queste qui mi stacco me le tengo perché sono bellissime, non so cosa state sentendo nel rumore della carta, continuo a parlare, ok, vediamo un po', che carina questa carta, è deliziosa, no, c'è anche il pulipetto, che carino, col fiocchetto, allora, mettiamo il pacchettino qui, vediamo un po', che cosa c'è dentro, allora, no, che bello, viola, come hai fatto a indovinare il mio colore preferito? Ok, allora, questo qui che è un filo di nylon, appunto viola, no, è bellissimo, è veramente stupendo, poi, andiamo un po', andiamo un po' a caso, wow, che colore stupendo, è un rocchettino di filo metallico, penso, da 0,5 mm, è un bellissimo colore petro, no, è fantastico, ok, più o meno così abbiamo messo a fuoco, no, è stupendo, è veramente bellissimo, poi, anche dei pacchettini tutti i tipi, e poi, un altro, no, che fantastico, che ha questo colore, un altro filo di nylon, allora, stessa, sì, sono uguali, identici, 9 metri, ed è questo fucsia, rosa fucsia, stupendo, è bellissimo, non ho altre parole, è veramente bellissimo, poi, no, che carini, una bustina di queste perline a forma di cuore, tutte colorate, no, ma sono bellissime, e dei versi strani, perline in pratica sono 20 grammi, sono carinissimi, sono dei colori pazzeschi, sono perlescenti, non so se si vede, forse sì, grazie, sei veramente dolcissima, vi faccio vedere il resto, allora, wow, dei charm, no, sono delle perle a forma di farfallina dorata, no, qui c'è anche una mellina, che carine, hanno il foro, sì, il foro è passante al centro, ma sono stupende, sono veramente deliziose, anche così sono 20 grammi, ma sono tantissime, e poi, vediamo, è così fatto, no, questi sono spettacolari, sono delle decorazioni, 60 decorazioni a forma di cuore, di questi qui che si, adesivi, no, io già questi me li immagino tipo sulle cover, no, sono bellissimi, ci sono dei colori fantastici, c'è verde, viola, rosa, fucsia, azzurro, e basta, direi, sono bellissime, wow, e poi, l'ultimo, sì, l'ultimo, l'ultimo pastottino, no, che cosa meravigliosa, il glitter, 5 colori diversi di glitter, c'è verde, giallo, arancione, blu e fucsia, ma sono spettacolari, e poi sono tantissimi, sono 5 grammi a micettina, che carino, vedo che hai preso tutto da Tiger, sono veramente bellissimi, niente, io ti ringrazio perché veramente sei stata dolcissima, ripresa il primo pacchetto che mi arriva come sorpresa, come regalo, è veramente, è una cosa veramente bellissima, e niente, io ti ringrazio, molto probabilmente ricambierò sicuramente, perché veramente, ne ho una delle cosine troppo troppo carine, io sono super super contenta, e niente, io spero che il video vi sia interessato, vi mando un bacione grande, mando un bacione grande a Giulia, ti ringrazio tantissimo, e niente, un bacione grande a tutte, e ci vediamo al prossimo video, ciao!